segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e questo può essere l'inizio di un'onda negativa per giorgia meloni e anche la sua chiamiamola narrazione no lei underdog sfortunata che secchiona e che però insomma è arrivata al potere contro tutto e tutti e che è invincibile assolutamente sì noi eravamo qui giovedì scorso nella serata in cui hanno fatto il comizio i tre assieme meloni salvini tagliani e abbiamo commentato quello che io ho definito a metà strada tra un comiziaccio e una recita scolastica con lei che come al solito ha iniziato facendo il solito esercizio di vittimismo e di criminalizzazione degli avversari dando per scontato che avrebbe preso l'intera posta questo non sta succedendo ripeto ragioniamo allo stato degli atti se finisce così lei ha sbagliato candidato dice bocchino però la destra ha vinto ma lei ha sbagliato candidato insomma è una cosa non ho detto neanche questo ho detto che è emerso la frattura tra il candidato voglio dire una cosa voglio completo il ragionamento due questioni due questioni rapidissime Italo la prima se è vero quello che tu dici al di là di tutti i problemi che il centrodestra la destra ha il principale è quello della classe dirigente questa è una destra che non ha classe dirigente tant'è vero che alla prima sfida elettorale significativa sia pure a livello territoriale cavalca diciamo la prima è la sesta le altre cinque sono state vinte ho capito sto dicendo quelle significative inizia un ciclo regionali piuttosto significativo già cinque regionali si sono fatti lo so d'accordo sto parlando del nuovo anno le precedenti ha vinto le elezioni lo so che ha vinto le elezioni meloni lo sapevo allora però appunto se sbagli candidato vuol dire che non ne hai altri io penso che la questa destra abbia un serio problema di classe dirigente primo punto secondo punto sempre ragionando su riflessi nazionali è ovvio che anche questo l'abbiamo detto giovedì scorso è ovvio che a questo punto con questo risultato Salvini batterà a cassa non sappiamo come forse non otterrà niente perché anche il risultato dei voti di lista poi andrà esaminato anche quello sarà una componente fondamentale la lega credo che non abbia brillato però è un dato di fatto che lui un candidato ce l'aveva è arrivata lei gli ha imposto il suo e hanno perso quindi qualche qualche tipo di compensazione io spero per meloni che lei stessa deve acconciarsi a farla perché se continua con la logica qui comando io e facciamo tutto quello che dico io intanto la narrazione è sbagliata perché ora tu lo riconosci quello che giustamente diceva prima lina ma abbiamo fatto infinite puntate